Le quattro operazioni. L'addizione è l'operazione che associa a due numeri detti addendi un terzo numero, detto somma, che si ottiene contando dopo il primo numero tante unità quanti sono quelle indicate dal secondo numero. 4 più 3 uguale 7 è un esempio di addizione. Vediamo come si chiamano i termini specifici. 4 e 3 sono detti addendi. Più è il simbolo di addizione. 7 è la somma. L'addizione può essere rappresentata su una semiretta orientata. Rappresentiamo quindi 4 più 3 uguale 7. Partiamo dal numero 4, cioè dal primo addendo. Ci spostiamo verso destra, cioè nella direzione crescente della semiretta, di tre unità, cioè quelle indicate dal secondo addendo. Così facendo aggiungiamo il numero 7, che è la nostra somma. Passiamo ora alla sottrazione, che è quell'operazione che associa a due numeri, detti rispettivamente minuendo e sottraendo, un terzo numero, detto differenza, che, addizionato al secondo numero, lo dà per somma il primo numero. 9 meno 6 uguale a 3 è un esempio di sottrazione, in cui 9 è il minuendo, meno è il simbolo di sottrazione, 6 è il sottraendo e 3 è la differenza. Anche la sottrazione può essere rappresentata su una semiretta orientata. Rappresentiamo quindi 9 meno 6 uguale a 3. Stavolta partiamo dal minuendo, cioè da 9, e ci spostiamo verso sinistra, cioè nella direzione decrescente della nostra semiretta orientata. ci spostiamo del numero di unità indicate dal sottraendo, cioè di 6. Così facendo giungiamo al numero 3, che è la nostra differenza. La moltiplicazione è l'operazione che associa a due numeri, detti fattori, un terzo numero, detto prodotto, che si ottiene addizionando tanti addendi uguali al primo numero, quanti ne indica il secondo numero. 4 per 2 uguale a 8 è una moltiplicazione in cui 4 e 2 sono detti fattori. Per è il simbolo di moltiplicazione, 8 è il prodotto. Anche questa moltiplicazione può essere rappresentata su una semiretta orientata. Partiamo dal numero 0 e ci spostiamo di tante unità quante sono quelle indicate dal primo fattore, cioè di 4. E dobbiamo fare due balsi quanti sono quelli indicati dal secondo fattore, per cui questo è il primo, questo è il secondo balzo anch'esso di 4 unità. Aggiungiamo il numero 8, che è il nostro prodotto. La divisione è l'operazione che associa due numeri detti rispettivamente dividendo il divisore, un terzo numero detto quoziente che è moltiplicato per il secondo da come prodotto il primo. 8 diviso 4 uguale 2 è una divisione, in cui 8 è il dividendo diviso il simbolo di divisione, 4 è il divisore e 2 è il quoziente. Possiamo rappresentare anche questa divisione sulla semiretta orientata. Partiamo dal dividendo, cioè da 8, e facciamo un balzo verso sinistra, cioè nella direzione decrescente della nostra semiretta orientata, di numero di unità indicate dal divisore, cioè di 4. Questo è il nostro primo balzo, che ci porta al numero 4. Questo è il secondo balzo, che ci porta al numero 0. Infatti noi dobbiamo spostarci finché arriviamo al numero 0. Il numero dei balzi che abbiamo effettuato sono due, e qui valgono al nostro quoziente. Vediamo questa tabella riassuntiva dei termini che abbiamo visto finora. All'addizione ha due termini che si chiamano addendi, il risultato invece si chiama SOM, la sottrazione ha due termini che si chiamano rispettivamente minuendo e sottraendo, il risultato si chiama differenza, la moltiplicazione ha due termini che si chiamano fattori, mentre il risultato si chiama prodotto, la divisione ha due termini che si chiamano rispettivamente dividendo il divisore e il risultato si chiama quoziente.